Ciao a tutti, oggi siamo a Paesana, nell'area sosta. Un po' di sosta ai piedi del Monviso, che è là, ma non si vede adesso. Lo scroscio di sottofondo che sentite dietro è il Po. Siamo abituati noi a vederlo come un fiume enorme, qui è un torrente, anche il colore è decisamente diverso. Emilca si è divertita tantissimo a fare i bagni. Anche noi stiamo benissimo perché è un posto veramente rilassante e rigenerante. Anche noi stiamo benissimo. Anche noi stiamo benissimo. Buono. Questa era un po' indietro. No era buona. 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 Grazie a tutti.